Tutto il chiesauria di tre punti in una partita, come abbiamo detto l'altro giorno, molto difficile. Sabevamo che Ludinese oggi veniva, avrebbe tirato fuori il carattere. Una buona squadra, stavano bene a calcio. Abbiamo sofferto, però abbiamo sofferto in maniera positiva. Eravamo sempre più positivi, cerchiamo il gol. Alla fine siamo stati porterati, l'abbiamo trovato e portiamo a casa tre punti importantissimi. Abbiamo controllato nelle statistiche Marco Di Vaglio 150 gol tra i professionisti. Un gran traguardo. Sì, è una bella soddisfazione. Speriamo di continuare a farne alzio, soprattutto speriamo di continuare a star bene fisicamente, che è la cosa più importante per me. Certo che questo Ludinese vista oggi due traverse, un Ludinese in palla, forse meritava qualcosa in più. Sicuramente, meritava minimo il pareggio. Abbiamo sofferto, loro hanno giocato una buona partita. A volte va così, siamo stati un po' più fortunati e ci portiamo a casa questa vittoria. Quanti gol vuoi fare? Viviamo la giornata e sono contento di quello che ho fatto oggi, che ha portato tre punti.